Mi dici il tuo punto di vista, perché manca solo il tuo... Au, mamma è imbruttito. Tu lo sapevi che dovevi andare in diretta? Io lo sapevo. Io lo sapevo. Sono entrato al posto di Stefano e ho finito mondo gol, in un contesto che fa troppo ridere, che tutti pensano a una discussione vera, invece Stefano e Fabio sono molto amici. Io lo sapevo, ero preparato, ero microfonato, perché io coordinavo mondo gol. Quindi facendo il coordinamento della missione, già comunque sei sul pezzo, sulla scaletta, su tutto. E poi, insomma, a quei 20 minuti ho preso il posto di Stefano, che aveva all'epoca un treno.